L'emergenza coronavirus ha fermato anche le attività agonistiche sportive e tutti i campionati. La sospensione dello sport è stata prorogata almeno fino al prossimo 13 aprile, come annunciato nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I giocatori del Bitonto stanno trascorrendo la loro quarantena con le proprie famiglie e ciascun tesserato è tornato nelle proprie città di origine. Tra questi il difensore Paolo Lomasto è rientrato a Napoli e che ci spiega come si mantengono i contatti tenendo vivo il clima dello spogliatoio e lo spirito di gruppo. E non solo, perché seppur individuali proseguono gli allenamenti molto limitati per farsi trovare pronti per un'eventuale ripresa del campionato. A seguirli a distanza il preparatore atletico il Professor Paolo Rizzo, che ogni settimana propone un programma ed esercizi già noti ai suoi ragazzi con un costante confronto video. Con i compagni ci sentiamo sempre su WhatsApp. Abbiamo due gruppi, uno solo i giocatori e un altro con tutto lo staff. E c'è il grande preparatore Paolo Rizzo, che ci manda ogni due o tre giorni il programma da seguire. Oggi decifrare il futuro del calcio non è possibile. Il sogno è quello di tornare in campo, come ci illustra il roccioso centrale partenopeo. Riprendere secondo me non è facile. Sarebbe bellissimo perché comunque il calcio dà tantissimo alle persone, sia per svago ai bambini che comunque rientrerebbero a scuola, parlerebbero di calcio, dei loro giocatori preferiti. Quindi in Italia soprattutto il calcio è lo sport più seguito. Quindi darebbe anche speranza a tante persone. Ad oggi secondo me non è facile. Perché comunque dietro a una partita muovi tante persone, arbitri, tantissime persone che comunque la domenica e il sabato si devono spostare. Secondo me non sarebbe una cosa facile ad oggi. Poi speriamo che che passa tutto in fretta per riprendere la vita normale di prima e alle due e mezza o alle quindici scendere in campo e vincere. Assolutamente. Ma giocare d'estate può essere un'opzione secondo te? Secondo me sarebbe una cosa bella. Soprattutto non alle quindici o alle sedici. Sarebbe una cosa bella di sera. Sette e mezza, otto, otte e mezza. Grazie.